Canottaggio, skateboard e football americano saranno le novità della prossima edizione della settimana dello sport, in programma dal 21 al 26 maggio. L'evento è promosso dal Comune di Como in collaborazione con il CONI e con oltre 20 società sportive del territorio. L'obiettivo principale è di promuovere lo sport sul territorio, far conoscere discipline nuove e consolidare e aumentare invece discipline ormai storicamente presenti sul territorio. Crediamo fermamente in questa opportunità che noi diamo ai ragazzi e ai genitori di entrare in conoscenza, in contatto con le associazioni sportive ed è un'opportunità anche di dialogo con le varie dirigenze e con le associazioni come dicevo prima che magari i genitori non hanno. In un momento unico un ragazzino può provare i vari sport, vedere i vari sport e scegliere quale è più consono per lui. Il 21 maggio si parte con una serata in biblioteca rivolta ai genitori e si procede poi con i motori, la Como Night Run e la possibilità per i bambini di incontrare i campioni dello sport. Novità assoluta sarà un momento dedicato allo skate e al football americano, ma anche una gara sprint di canottaggio nel primo bacino, alla quale sarà possibile assistere dal lungo lago e dalla diga. Gran finale sabato 26 dalle 18 alle 24 con la notte bianca dello sport, nelle principali piazze cittadine e al lago. I bambini potranno cimentarsi con diverse discipline e mettersi alla prova in varie attività negli spazi allestiti appositamente dalle società sportive che partecipano all'evento.